Turris prima nel girone con Terramo e Bari, 10 punti in quattro partite e striscia positiva che continua. Una partita, quella con il Monopoli, complicata, con i corallini in difficoltà soprattutto nella ripresa dopo la rete del vantaggio che porta la firma di Vandolfi. Sul match si è pronunciato anche il presidente Colantonio, che parla di punti importanti contro una squadra ben messa in campo come il Monopoli. Secondo il Patron sarà una stagione non semplice, con tutte le squadre impegnate spesso nei turni infrasettimanali e sarà quindi fondamentale recuperare al più presso tutti gli infortunati. Il presidente dei corallini si è espresso anche sulla riapertura degli stati. Esperimento riuscito, si è assistito alla partita in totale sicurezza grazie alla buona sinergia con gli organi preposti. Il pubblico si è tenuto alle disposizioni e spero si sia divertito. Queste le sue parole. Colantonio aspica inoltre un possibile aumento delle persone che potranno accedere allo stadio, augurandosi di riempire gli spalti con almeno mille unità. Grazie.